L'attesa è terminata e con grande successo si è conclusa la 23esima edizione del premio Rotary Scuola di Lucera, un evento organizzato con passione ed edizione dal Rotary Club di Lucera sotto la guida del presidente Luigi Fantetti. Il momento clou dell'edizione è stata la partecipazione del colonnello Carlo Calcagni come ospite d'onore. Il colonnello Calcagni, figura notevole con valori eccezionali, ha condiviso la sua testimonianza di vita, ispirando ed emozionando tutti i presenti. Le date principali dell'evento sono state il 22 settembre e oggi, il 22 settembre presso il Cineteatro dell'Opera Lucera, è stato proiettato il documentario Sono il colonnello che ha messo in luce la straordinaria vita e i valori inestimabili. A seguire il colonnello ha partecipato a un coinvolgente dibattito. Per me sicuramente è una bella occasione quella di essere qui a Lucera e grazie al Rotary che ha organizzato questo evento. Quando poi c'è anche l'opportunità di incontrare i giovani delle scuole, per me è un motivo in più, perché dobbiamo sicuramente fare la nostra parte per educare i giovani. Ci troviamo all'auditorium del liceo per la ventitresima edizione del premio Rotary Scuola. Ieri sera abbiamo vissuto il prologo, una serata straordinaria, alla presenza del nostro ospite, il colonnello Carlo Calcagni, che ha emozionato l'intera platea e ha lasciato un alone di emozione e suggestione in tutti quanti noi. Oggi, come dicevo, siamo nell'auditorium per la tradizionale premiazione e rendere merito e omaggio ai ragazzi che l'anno scorso si sono diplomati con il massimo dei voti in tutte le scuole superiori di Lucera.